Tre minuti per tornare in paradiso, il tempo impiegato da Simone Simeri dopo mesi di assenza per fare quello che gli riesce meglio, il gol. Un infortunio nella finale play-off della scorsa stagione aveva infatti costretto l'attaccante napoletano a un lungo stop, compromettendo il suo impiego in questo inizio campionato. Poi finalmente rientro sul terreno di gioco del Viviani nel derby Appolo-Lucano, vinto dai Biancorossi per 4-1 contro il Potenza e il gol appunto, che ha trasformato la lunga attesa in un'esultanza liberatoria. Mi mancava da tantissimo tempo, ho fatto tre mesi di purgatorio, quindi non vedevo l'ora di ritornare in paradiso con la squadra. Le trasferte in Basilicata portano bene l'attaccante ex Rosso-Blu, come sottolineato dallo stesso Simeri al termine della gara. È stato un gol che diciamo che anche l'anno scorso è arrivato qui a Potenza, anche contro il Picerno, quindi dopo tre mesi di astinenza, che ricordiamo il mio ultimo gol l'ho fatto con la gara resi nei play-off, quindi non ce la facevo più. Poi c'è stato un infortunio dopo infortunio e sono stato tutti i giorni, giorno dopo giorno, a lavorare sempre di più per ritornare a lottare con i miei compagni. Questa è un'azione che noi in allenamento la proviamo e riproviamo, perché il miss vuole sempre che l'attaccante una volta uscito attacchi subito l'area di rigore. E oggi c'è stata una fotocopia di quello che proviamo in allenamento. Sono a buon punto, però non sono ancora al 100% e quindi sto lavorando, come ho detto prima, duramente giorno dopo giorno per arrivare al 100%. Diciamo che la mia prima partita dopo l'infortunio, perché comunque domenica ero in panchina, ma non me la sentiva ancora di entrare in campo. Infatti abbiamo parlato con il mister e ci siamo messi d'accordo per rientrare poi con il Potenza. Infatti cosa è stato?